Grazie a tutti. Il problema dell'accelerazione di tutto il permitting è essenziale. Noi abbiamo nei piani nazionali dei target ambiziosi ma non stiamo procedendo con la necessaria velocità e questo è dovuto alle procedure. Quindi ottima la soluzione trovata. La seconda riguarda la disponibilità di tecnologie e di materie prime e di tutto quello che per fortuna la nuova politica industriale europea sta tracciando e sta cercando di costruire tecnologie, materie prime e strumenti. Per esempio noi guardiamo con molto favore l'alleanza fatta con successo per le batterie e ora per quanto riguarda l'eolico e il solare. Queste nuove forme, questi strumenti di politica industriale mettono insieme i paesi, i centri di ricerca, gli imprenditori e possono farci andare avanti. Il terzo riguarda gli investimenti. Repower e le nuove disponibilità nei nostri piani danno anche gli strumenti per raggiungere questi obiettivi.